Riprendiamo con le audizioni informali in riferimento al decreto legge numero 123 2019, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione e completamento della ricostruzione in corso nei territori colpiti dai venti sismici, 2.211 Governo. Oggi abbiamo con noi il commissario terreno per la ricostruzione nei comuni della città metropolitana di Catania, danneggiata dal sisma del 26 dicembre 2018, il dottor Salvatore Scalia, che le lascio immediatamente la parola. Prego, per la realizzazione. Grazie. Intanto vi ringrazio per l'attenzione che vorrete prestarmi. Voglio premettere che questo DL 123-2019, nato per il centro Italia, potrebbe agevolmente applicarsi anche alle zone che non sono state comprese sostanzialmente, nonostante il titolo della norma, riguardi territori colpiti da eventi sismici, però i riferimenti nel testo si fermano sostanzialmente ai decreti che riguardano il centro Italia. Noi abbiamo avuto gli eventi in Sicilia, a Ischia, eccetera. Io mi riferirò soltanto, o almeno in gran parte, a tutto ciò che può essere recepito del DL 123-2019 anche per la zona terremotata di Catania è a costo zero, perché trovo che quanto indicato nel decreto in questione sia frutto di un'esperienza che è maturata nel tempo e che, peccato, possa essere dispersa. Gran parte di quanto recepito nel DL 123-2019, peraltro, trova un riscontro in delle relazioni, in delle richieste che io ho indirizzato al Presidente del Consiglio e al Direttore della Protezione Civile. Vi prego di prendere atto che ho preso possesso delle mie funzioni soltanto il 16 ottobre di quest'anno, perché la norma che riguarda la Sicilia è del giugno del 2019, ma la nomina è dell'agosto e il visto della Corte dei Conti è pervenuto soltanto nell'ottobre. Però, personalmente, ho un'esperienza che mi deriva dal fatto di essere stato Presidente dei Comitati dei Terremotati della zona etnea e una discreta conoscenza delle problematiche relative al terremoto che sono connesse alla mia passata attività di 45 anni di magistratura inquirente, purtroppo datata, dato che mi occupai della ricostruzione del Belice, che forse molti di voi nemmeno sanno e ricordano, non erano presenti. Però è stata un'esperienza interessante e certamente molto diversa. La prima, io cercherò di essere breve perché comprendo le vostre esigenze. Vi sottolineo quanto potrebbe essere, con un mero tratto di penna, essere assai utile per le zone della Sicilia. Intanto, l'articolo 1 del DL di cui parliamo, che riguarda la proroga dello Stato di emergenza. Questo è assolutamente fondamentale anche per quello che riguarda... Sono un po' più di direndo io perché... Prego, continuiamo. Prego, onorevole Trancassini. Lei, contiamo con... Corrispondenza. Adesso lasciamo continuare per la relazione, grazie. All'articolo 1, io mi permetto di suggerire una proroga dello Stato dell'emergenza anche per quello che attiene alle zone etnee. Dovrebbero cessare al 31 dicembre di quest'anno, cioè tra due mesi, e dovrebbe subentrare il commissario per la ricostruzione. Personalmente, le strutture delle quali mi avvalgono sono una sedia e una scrivania, perché essendo stato nominato a ottobre non ho ancora uno staff, non ho ancora una sede, non ho ancora nulla. Laddove questo Stato di emergenza e quindi la possibilità per il commissario dell'emergenza di continuare a lavorare, dovesse cessare, io mi domando come mai si potrebbe riuscire a sopperire alle esigenze della protezione, atteso che nessuno potrebbe sostituire il commissario per l'emergenza. Articolo 3, l'articolo 3 io lo trovo molto importante, ben scritto e potrebbe con un tratto di penna anche questo essere applicato alla realtà siciliana. Una prima, semplificazione e accelerazione della ricostruzione privata attraverso l'autocertificazione da parte dei tecnici. Questo sgraverebbe in gran parte l'attività di comuni che sono privi di personale e del commissario per la ricostruzione che può usufruire soltanto di sette elementi. Ancora più fondamentale, e io vi prego questo, di trovare il sistema di inserirlo, è il problema delle priorità. Le somme che sono state stanziate non saranno sicuramente sufficienti per soddisfare tutti i danni indiscriminatamente. Quindi, in base alle priorità, alcuni potranno trovare soddisfazione ed altri no. La norma che attualmente esiste per la Sicilia è una norma che fa riferimento a una priorità collegata all'entità del danno, senza che sia specificato se bisogna ritenere prioritario il danno maggiore o il danno minore. E soprattutto è una norma che, in quanto tale, comporta, a mio parere, delle difficoltà e delle ingiustizie sociali notevoli. Chi dovrebbe decidere sulle priorità, e cioè il commissario, a questo punto deve trovare degli altri elementi di aggancio, che io ho trovato giusto in quello che voi avete riportato all'articolo 3, nell'ambito delle priorità. Cioè, noi dobbiamo soddisfare prima le esigenze dei residenti, ricostruire le case dei residenti, al contempo così eliminando le spese collegate all'assistenza e i ricoveri in alberghi e in strutture private. Sarebbe un risparmio netto appena noi riusciamo a ricostruire il privato. Il secondo punto, come voi avete indicato, coloro che conducevano in locazione o incomodato con contratti registrati degli immobili esistenti all'interno, esistenti in questi comuni. Infine, quello che riguarda le imprese, le attività produttive. In tutto questo si inserisce, e ovviamente non può che essere prioritario anch'esso, le chiese, le scuole e quant'altro. Io vorrei, proprio in pochi secondi, delinearvi la realtà di questo terremoto, che è un terremoto anomalo, perché ha colpito quote, ha colpito settori molto particolari del territorio. Cioè, i comuni sono nove, indicati tra quelli che hanno subito dei danni, ma alcuni di questi comuni sono stati colpiti soltanto marginalmente. E anche i comuni maggiormente colpiti hanno avuto dei danni in settori territoriali estremamente delimitati. Cioè, i centri di questi abitati non hanno avuto danni. Le frazioni, che sono quelle abitate dai contadini, che sono quelle delle seconde case, che sono quelle dei piccoli artigiani, sono state semidistrutte. Ed allora, io ritengo che in una visione complessiva del decreto terremoto, nel quale noi potremmo anche entrare, proprio perché mi rendo conto delle difficoltà delle finanze dello Stato, bisognerebbe far sì che qualsiasi beneficio di carattere economico che possa essere attribuito ai terremotati sia limitato a chi veramente terremotato è. Perché più disperdiamo i contributi e le disponibilità dello Stato semplicemente facendo riferimento ai comuni, meno noi possiamo dare aiuto a chi veramente ne ha bisogno. Ultimo punto. Nella nostra normativa non è indicato alcunché, nel caso delle delocalizzazioni. Cioè, io non so, in base a cosa, quando dovrò dire a qualcuno tu lì la casa non la puoi ricostruire, io non so cosa gli devo dire. Cioè, ti diamo dei soldi, aspettiamo che si faccia il nuovo piano regolatore, è impossibile, impossibile. Ecco, io vorrei una norma, ma magari questo staremo a vedere, una norma che mi consenta di comprendere cosa devo dire a questa gente e come posso in qualche maniera risarcirla. Ultimi due punti. Spero di essere stato abbastanza sintetico. Ultimi due punti. È assolutamente indispensabile, io non faccio il politico, una norma di carattere generale sui terremoti. Ci vuole, perché il nostro terremoto è del 28 dicembre e non è stato ricostruito nulla fino a questa data, se non un inizio di ricostruzione leggera, per la mancanza di una norma quadro che consentisse di intervenire immediatamente. È una cosa, a mio parere, che alla luce dell'esperienza che ormai abbiamo acquisita può essere fatta. Vi faccio i conti della serba. Sono stati stanziati per Catania 236 milioni di euro. Io sono stato nominato a ottobre, non potrò spendere la quota prevista per il 2019 perché non ho le strutture per spendere queste somme. Quindi è necessario che tutti i termini che riguardano Catania, così come quelli che riguardano il centro Italia, vengano spostati tutti di almeno un anno perché noi non siamo ancora partiti. E poi, sono stanziate delle somme importanti e non abbiamo il personale per gestirle. Io penso che se noi attribuiamo la possibilità agli uffici dei commissari di avere uno staff di personale a costo zero perché il nostro personale è tutto personale della pubblica amministrazione in comando o in distacco. A costo zero. Noi potremmo riuscire unitamente all'aumento degli organici dei comuni che è previsto nella nostra normativa, sempre con contratti a tempo determinato, noi potremmo riuscire a accelerare i tempi della ricostruzione che altrimenti rimangono bloccati per la mancanza di chi debba studiare le pratiche. Con questo noi risparmieremmo i soldi dei contributi di autonoma sistemazione e del ricovero in alberghi. Vi faccio presente che il ricovero in albergo è già costato qualche milione. Io con quel milione se soltanto il 10% l'avessi potuto avere di personale li avrei già rimessi a casa loro. Questa è una cosa alla quale io vi invito a riflettere un attimo. Non posso entrare in ulteriori dettagli laddove voi me lo chiedeste e sono a vostra disposizione anche per una relazione scritta che possa servire sia per questa ipotesi sia laddove si ritenga di porre mano a una normativa più generale. Grazie. Ci sono interventi? Fran Cassini, prego. Buongiorno. Io la ringrazio di essere venuto qui a rendere l'audizione anche se per noi mortali della opposizione è una sorpresa perché noi non sapevamo che ci sarebbe stata questa audizione e quindi non siamo preparati su due argomenti quello principale che la riguarda e poi l'estensione del decreto che rappresenta una vera e propria novità sulla quale lavoreremo nelle prossime ore sperando che la maggioranza capisca che dobbiamo ampliare i termini per la presentazione degli emendamenti proprio per venire incontro alle sue esigenze perché per poter proporre degli emendamenti e per far sì che tutto questo sia serio perché altrimenti non è serio né la sua audizione né il nostro lavoro noi dobbiamo approfondire la materia immedesimarci in quelli che sono i suoi problemi non soltanto quelli che ci ha raccontato oggi e cercare di rendere questo decreto diciamo confacente a quelle che sono le cose che lei ci ha detto e che sono anche cose abbastanza gravi se uno non ne rapportasse a quelle che è il quadro generale perché vede quando lei dice dal 26 dicembre 2018 non è partita la ricostruzione se lei questa fosse un'audizione in qualunque altra nazione del mondo lei direbbe qualcosa di molto importante poiché lo dice in una commissione che ha soltanto passato 12 ore fino adesso a sentire l'audizione di tutti i soggetti più o meno investiti di questa problematica provenienti dai territori che hanno detto la sua stessa cosa rispetto al terremoto del 2016 capisce che insomma la sua affermazione è purtroppo in linea con quella che è l'incapacità dei governi che si sono succeduti di affrontare in maniera seria questo tipo di problematica mi fa particolarmente piacere il passaggio finale quando lei dice se quel milione che io ho speso in alberghi avessi avuto la possibilità di metterlo a frutto io sarei riuscito a dare dei segnali anche alla collettività e avrei rimesso delle persone all'interno della propria abitazione perché questo è un po' il tema la velocizzazione e purtroppo l'andazzo che la ricostruzione sta prendendo non solo a Catania ma in generale e cioè quella che in nome della burocrazia noi siamo autorizzati a buttare via i soldi e risorse che invece per il territorio potrebbero essere importanti non ho ben capito il passaggio sulla delocalizzazione perché non mi risulta che ci siano situazioni nelle quali è impossibile ricostruire probabilmente diventa impossibile ricostruire lì dove siamo in presenza di vincoli importanti o magari di abitazioni che non dovevano essere lì diciamo al momento al momento del sisma e così come non ho capito il passaggio iniziale in cui lei dice che bisognerebbe prorogare lo stato di calamità perché al 31 dicembre e su questo ha ragione perché non si capisce perché lo stato di calamità a voi finisce il 31 dicembre con un terremoto che ha nemmeno un anno e per l'altra parte che con un terremoto che ha una storicità tre volte tanto viene ulteriormente prorogato ma il passaggio in cui lei dice no perché poi se non proroghiamo finisce il ruolo del mio come commissario straordinario e arriva il commissario per la ricostruzione io non ho notizie di questo cioè noi non lavoriamo con i commissari sull'emergenza i commissari per la ricostruzione quindi volevo capire questi due passaggi altri interventi ci sono Valbusa prego sì solo per accodarci alla richiesta del collega di Fratelli d'Italia per aumentare quindi il tempo a nostra disposizione per la rivisitazione di questo di questo testo allargato anche con l'audizione che abbiamo avuto stamattina e allargare il tempo degli emendamenti da presentare vista la richiesta pervenuta grazie grazie altri interventi sì ringrazio il commissario per essere venuto qua con noi volevo tranquillizzare Trancassini che è stato inserito su richiesta anche da parte dello stesso commissario anche il commissario di Ischia voleva essere audito ma purtroppo non era nei tempi giusti per venire qua perché non aveva disponibilità nel venire da Catania aveva la disponibilità oggi e quindi è venuto oggi non peraltro dato che abbiamo ascoltato diverse persone e dato che il commissario è comunque una parte delle istituzioni su richiesta di istituzione onestamente credo che sia opportuno che la commissione non possa dire di no non ti ascolto visto anche che sono commissari che si occupano di temi molto ma molto delicati e molto sentiti dalle popolazioni quindi questa audizione la ritengo molto importante e Ischia so che doveva mandare dei contributi scritti non so se già sono stati inviati oppure no e invito anche il commissario a lasciare la sua memoria qua in modo tale che sia anche a disposizione di tutti i commissari della commissione la ringrazio per il lavoro che sta svolgendo noi come relatrice adesso vedremo tutti le proposte che avete avanzato e cercheremo di dare respiro anche al terremoto di Catania e a Catanesi grazie per precisare perché altrimenti evidentemente non parliamo un pezzo pane così sì grazie presidente solo un ringraziamento anche da parte mia e noi cercheremo pur nei tempi ristretti di dare la massima attenzione volevo soltanto chiedere se il commissario ha diciamo accompagnando alle sue parole che già sono importanti e come dire già obiettivo di lavoro per noi se ci sono anche delle proposte di emendamenti da parte sua che deposita oggi o che ci fa arrivare in brevissimo tempo Fran Castini scusi sì no volevo precisare perché probabilmente non mi sono spiegato a sufficienza noi siamo d'accordo all'estensione del decreto anzi riteniamo che nel momento in cui la maggioranza ritiene di fare un decreto insomma stabilire delle norme sulla ricostruzione io credo che buonsenso voglia che ci occupiamo di tutte quelle che sono le vicende tuttora in essere appunto legate al terremoto prima e al tema della ricostruzione poi io mi riferivo semplicemente a un metodo di lavoro che credo che sia irrispettoso perché noi siamo stati in questa in questa in questa aula nelle ultime 48 ore siamo stati 12 ore qui in commissione a fare appunto delle audizioni e il tema dell'estensione del decreto è un tema che è uscito l'ultima volta è uscito ieri con il presidente del lanci rappresentante del lanci che invece era contrario a questo aspetto mentre invece il sindaco dell'Aquila ribadeva l'importanza di estenderlo io credo per una questione anche soltanto di rispetto che l'opposizione dovrebbe essere messa al corrente tempestivamente di quelle che sono gli intendimenti della maggioranza perché altrimenti l'ufficio di presidenza non ha ragione d'essere e credo che questo aprirebbe il fronte a una serie di improvvisazioni che insomma non hanno niente a che vedere con la democrazia un po' come se oggi noi ci fossimo trovati qui il commissario di Genova perché aveva dato la disponibilità a venirci a raccontare lo stato dell'arte atteso che nel suo decreto si è parlato di ricostruzione non vedo perché nel decreto del terremoto non si possa in qualche modo migliorare la situazione del ponte di Genova io credo che quello che abbiamo detto sia noi che i rappresentanti della Lega sia oggettivo e credo che nel momento in cui la maggioranza decide giustamente di occuparsi della ricostruzione di Catania e anche io mi associo alla richiesta di farci pervenire delle proposte emendative a stretto giro noi dobbiamo assolutamente rivedere i termini per la presentazione degli emendamenti perché è completamente cambiato il quadro normativo sulla quale i deputati sono chiamati ad diciamo ad emendare per quello che attiene agli emendamenti io deposito una lettera una relazione che ho indirizzata al Presidente del Consiglio dei Ministri il 30 ottobre ed una lettera che ho indirizzata al Direttore Generale della Protezione Civile il 5 di novembre perché chiaramente non ero preparato per predisporre già degli emendamenti però a mio parere un emendamento semplicissimo si potrebbe fare e cioè semplicemente aggiungere a degli articoli che sono previsti per la ricostruzione del Centro Italia la indicazione del nostro decreto in quanto si tratta di questioni che non hanno un impatto economico zero e cioè poiché il titolo del decreto è zone sismiche in generale è molto strano che dopo che si parli di zone sismiche di territorio qual è il titolo per l'accelerazione del complemento e ricostruzione in corso nei territori colpiti si sia dimenticati del sud quindi basterebbe inserire laddove si fa riferimento per determinati istituti al decreto emergenza Centro Italia anche il decreto emergenza Ischia e il decreto emergenza Catania voglio chiarire perché sicuramente sono stato poco felice onorevole per quello che riguarda chiaramente dopo è scontato che se certe cose si sappiano ovviamente non è così e lo comprendo benissimo il nostro sisma io sono fuori casa perché anche io allora dicevo abbiamo c'è stato questo sisma il 26 di dicembre il giorno dopo di Natale eravamo tutti a casa è stato immediatamente dopo varato un decreto dal vecchio governo un decreto per l'emergenza è stato nominato un commissario per l'emergenza che ha lavorato sull'emergenza cioè strade interrotte alloggi e era previsto molto esattamente visto che è stato rifatto la possibilità della cosiddetta ricostruzione leggera per la ricostruzione leggera che era limitata a 25 mila euro di spesa lorda quindi quattro soldi ci sono state centinaia di domande che avrebbero consentito se esaminate avrebbero consentito a tanta gente di rientrare a casa e di risparmiare ben di più dei 25 mila euro purtroppo la realtà è che nei comuni in questione sono dei comuni non grandi mancano manca il personale gli ingegneri eccetera che possa esaminare queste pratiche quindi queste centinaia di pratiche sono state esaminate soltanto in una misura di poche decine perché erano poche devo dire che nella legge 55 proprio la conversione del decreto legge è stato previsto l'incremento del personale dei comuni con personale a tempo determinato e io dovrò indicare quanto è quindi noi abbiamo onorevole in questo momento un commissario per l'emergenza che si è occupato e continua a occuparsi dell'emergenza e un commissario per la ricostruzione che dovrebbe invece affrontare il tema principale eccetera il commissario per l'emergenza e a quello mi riferivo quindi io io cesserò nel 2021 il commissario per l'emergenza cesserà a questo dicembre sarebbe bene che invece il commissario per l'emergenza continuasse a gestire tutto quello che è l'assistenza alla popolazione le strade eccetera perché il commissario per l'emergenza è il direttore regionale della protezione civile ha già uno staff ha già ha qualcosa dal quale potersi agganciare quindi io sarei contento se almeno per altri sei mesi per un anno nell'emore della sistemazione del commissario per la ricostruzione l'emergenza continuasse anche questo è a costo zero perché o lo statuisce il commissario per l'emergenza che ha già uno staff o lo facciamo noi è la stessa cosa io sono scusi prego è a costo zero perché l'assistenza alla popolazione o la eroga il commissario per l'emergenza che però ha già una struttura che la sta erogando da sei mesi o la eroga o per meglio dire non la eroga nell'immediato il commissario per la ricostruzione l'entità è sempre la stessa cioè se no cioè io sono fuori casa non è il mio caso io sono fuori casa e quindi mi danno 500 euro al mese per questa gente è molto importante 500 euro al mese questi 500 euro al mese ora come ora lo sta dando il commissario per l'emergenza al 31 dicembre cessa l'emergenza e quindi questa somma dovrebbe erogarla il commissario per la ricostruzione è sempre la stessa somma non so se sono stato per precisare solo per essere no prego allora questo l'ho capito sono 500 euro indipendentemente da chi li eroga però se noi oggi abbiamo due commissari e due staff se uno finisce il suo mandato e ne rimane un altro non è a costo zero si risparmia sulla spesa del commissario e dello staff non capivo il costo zero io sì il commissario per l'emergenza è il direttore della protezione civile quindi non ha costi non ha staff ha la protezione civile e quindi sì ha il commissario per l'emergenza è la protezione civile in buona sostanza le somme sono sempre sono sempre quelle e adesso l'ultima cosa mi ha chiesto come è possibile il discorso della delocalizzazione il terremoto di Catania è stato particolare perché è dovuto a una improvvisa faliazione cioè si è aperto il terreno questa apertura del terreno ha creato delle onde sismiche che ai lati ha creato il crollo di edifici entro una certa a seconda di come sono composti i terreni anche a distanza di chilometri però in maniera molto strana non posso addentrarvi ovviamente anche perché non sarei in grado in alcuni casi è ovvio che è inopportuno ricostruire nello stesso luogo in cui il terreno si è aperto anche perché il terreno guardi è impressionante vi sono delle case che sono crollate non dopo durante il terremoto ma 15 giorni dopo perché questo terreno si è aperto e la casa quindi si è aperta non puoi costruire nemmeno in legno invece accanto a queste faglie anche a 10 a 20 metri non è necessaria la delocalizzazione perché si può costruire in legno si può costruire con i nuovi sistemi antisismici utilizzando anche i benefici del bonus sisma tutte queste cose insieme ecco perché il nostro è un terremoto per chi l'ha vissuto particolarissimo grazie pezzo pane prego io volevo fare un punto di chiarezza sulla questione del decreto almeno dal mio punto di vista e dal punto di vista della collega che adesso interverrà perché non ci siano tra di noi equivoci possiamo decidere qualsiasi cosa sui nostri tempi di lavoro ovviamente perché siamo ci autodeterminiamo però sul punto che il decreto sarebbe stato aperto ad altre ad altri eventi sismici su questo punto siamo state chiare fin dall'inizio dell'incardinamento del decreto sia nella mia relazione che nella correlazione della collega Terzoni è stato immediatamente detto che fermo restando l'approccio del governo che si è limitato a norme urgenti per il 2016 già la scelta di inserire un titolo al plurale era prodromica all'apertura del decreto tanto è vero che abbiamo aperto le consultazioni per decisione unanime e per input di tutte le forze politiche che hanno chiesto la convocazione del sindaco dell'Aquila per dire io stessa l'ho inserito abbiamo inserito i sindaci del cratere 2009 abbiamo chiesto alle altre realtà o di mandarci materiali o di venire in consultazioni questo per chiarezza perché è una cosa che sappiamo tutti da mercoledì quando è stato fatto scorso non mi ricordo la data ma da mercoledì scorso quando è stato fatto l'incardinamento del decreto poi tutto in tranquillità in serenità come sempre abbiamo fatto possiamo decidere però ci tengo a dire che il nostro incardinamento è iniziato proprio con l'apertura agli altri eventi sismici si guarda rireggo il resoconto scenografico del 30 ottobre quindi della settimana scorsa Patrizia Terzoni relatrice nel ringraziare la correga relatrice Pezzopano anticipa la massima disponibilità a cogliere tutti i contributi che emergeranno dal dibattito parlamentare anticipa che poiché già nel titolo del provvedimento si fa riferimento a tutti i territori colpiti da 20 sismici vi è l'intenzione di guardare con favore a quegli amendamenti che intendano ampliare il contenuto del decreto legge al fine di ricomprendervi misure a favore del territorio di Aquila del Molise Campania Sicilia ed Emilia Romagna giusto per fare chiarezza che non è venuto fuori oggi che noi apriamo anche agli altri sismi ma è già stato detto dal primo giorno in cui è stato incardinato in questa commissione il provvedimento sul decreto sisma giusto per chiarezza perché è opportuno farla grazie Mallotto sì Presidente solo per chiedere un chiarimento io ringrazio naturalmente il commissario per aver ben spiegato e perci fatto capire quali sono le problematiche del territorio che oggi sta gestendo chiedo però una cosa io credo che il dibattito politico sul provvedimento dovrebbe essere fatto in commissione e magari dopo aver ringraziato il commissario per averci ben spiegato e fatto capire quali sono le sue idee in merito al territorio trovo che non sia corretto dibattere sul provvedimento col commissario presente grazie onore Trancassini si raccolgo l'invito della collega Pezzopane quindi con estrema serenità e tranquillità ma anche con insomma decisione mi permetto sommessamente di dire che quello che dite non risponde al vero perché perché se fosse vero che l'intendimento della maggioranza era sin dall'inizio quello di aprire il decreto qualcuno mi deve spiegare e lo dico e vorrei l'attenzione del commissario del perché rispetto alle vicende siciliane non abbiamo audito il presidente della regione Sicilia nella richiesta di audizione sulle quali credo abbiamo dibattuto la settimana scorsa all'interno dell'ufficio di presidenza io non ho trovato traccia di nessun riferimento forse la collega non sopporta quello che dico abbiamo fatto la richiesta come relatrice per la conferenza Stato Regioni chiedendo di far partecipare i delegati delle regioni colpite da altri sistemi rimbalzo con la lega che non è questo il momento per tirare fuori questo dibattito ti rimando l'invito alla serenità della collega l'audizione conclusa